Oltre 200 opere tra stampe, volumi e incisioni raccontano a Venezia le impronte della civiltà armena. La mostra, promossa per il quinto centenario della stampa del primo libro in lingua armena, ha registrato in anteprima la visita del presidente Sargisian, che ha sottolineato gli antichi legami tra il suo paese e la città lagunare.